Affrontiamo ora il trattamento delle lombosciatalgie e lombocrolalgie attraverso un esempio. Facciamo il caso di un paziente in cui dobbiamo intervenire per il trattamento di una sciatica destra L4-L5. Avremo dei punti che dobbiamo pungere a profondità con puntura profonda e poi dei punti che dovremo pungere con puntura a profondità media e dei punti che dovremo pungere con puntura superficiale. Vediamo in primo luogo i punti a puntura profonda. Vaso concezione 12 va appunto, dopo essere stato correttamente localizzato, a puntura profonda. Vaso concezione 6 va appunto a puntura profonda. E vaso concezione 4 a puntura profonda. Poi bisogna utilizzare i punti omolaterali. Dunque la sciatica è a destra, dobbiamo utilizzare i punti di destra e utilizzeremo precisamente stomaco 26, che andrà appunto a profondità media, e poi i punti extra 4 ed extra 6, che vanno punti invece a profondità superficiale. Possiamo aggiungere anche dei punti che riguardano la zona lombare laterale, vaso rene 13, che più o meno corrisponde a L4, ma anche l'extra 7, che corrisponde più o meno a L2. Ovviamente all'addominopuntura possiamo aggiungere anche la puntura tradizionale. E in questi casi possiamo, nel caso di un'ernazione posteriore, pungere i punti già G bilateralmente nelle zone delle vertebre corrispondenti e della zona superiore e inferiore alla vertebre corrispondente. Nell'erniazione posterolaterale generalmente si utilizzano i punti già G controlateralmente alla vertebre corrispondente e alla vertebre superiore e inferiore a quella corrispondente. E poi dovremmo utilizzare dei punti locali. Questi punti locali verranno utilizzati in relazione alla distribuzione del dolore. Quindi possiamo utilizzare vaso governatore 3, 4, 5, oppure vescica 22, 23, 24, 25, 26, come vediamo in questa immagine, in relazione proprio alla localizzazione del dolore. E poi possiamo utilizzare dei punti a distanza, per quanto riguarda il canale di vescica, per esempio vescica 40 o il vescica 60, per quanto riguarda il canale dumai, l'1 vaso governatore, il 26, ma anche il 3 intestino tenue, che è il punto chiave del canale dumai. E poi possiamo utilizzare sempre per il canale dumai e per la vescica i punti 3 intestino tenue e 62 vescica, che sono i punti chiave di apertura dei canali straordinari. e poi ancora, nell'ambito della patologia del gluteo, il vescica 54, il vescica biliare 30 o il vescica biliare 29. Per quanto riguarda il canale di vescica, possiamo utilizzare, di vescica biliare, possiamo utilizzare anche dei punti a distanza, il 34 e il 39, oppure, per quanto riguarda il dolore locale, anche il vescica biliare 31 e il vescica 37 e 36. Aviamo anche la possibilità di utilizzare dei punti eziologici, nel deficit di rene, il 3 rene, nel deficit di yang, il 4 vaso governatore e il 17 rene, nel deficit di yin, il 3 rene, oppure il 6 di milza pancreas. Grazie a tutti.